buongiorno allora oggi facciamo una pausa dei pupazzietti e realizziamo questa meravigliosa mattonella anemone così l'ho chiamata io allora questa mattonella è stata realizzata la realizzeremo in acrilico con l'uncinetto numero tre e mezzo e misurerà alla fine per quanto riguarda la mia mano un momento lo dico 19 centimetri anzi 20 perché qua a me manca il giro ancora di verde quindi misuriamo di qua 20 centimetri pari pari dunque quando mi fate le domande del tipo ah ma non si può rimpicciolire no nel senso che la se la volete rimpicciolire la fate con un acrilico più sottile o con il cotone ma non si può ingrandire no nel senso che si può ingrandire continuando a lavorare l'ultimo giro l'ultimo giro continuando a fare le maglie alte per l'ultimo giro ogni giro misura circa mezzo centimetro e ve la ingra un centimetro scusate e ve la ingrandite quanto vi pare ma la mattonella base è questa quindi non si può ingrandire a meno che non usate un filato più grande o a meno che non continuate a lavorare i giri intorno non si può rimpicciolire a meno che non usate un filato più sottile o il cotone quindi quando dovete fare un progetto ne fate una col filato che ritenete dovete usare la misurate e vedete se indicativa se c'è se è se quella mattonella è idonea per il vostro lavoro ok adesso è la mattonella è abbastanza impegnativa quindi ci sono passaggi un po non troppo semplicissimi però cercheremo un attimino del capì come funziona va bene io userò questi colori per quella nuova quindi arancio azzurro bianco giallo verde potete usare quanti colori volete le ripetizioni che volete un colore due colori tre colori quattro colori cinque quello che vi pare ok allora iniziamo questo iniziamo col giallo ma iniziamo col giallo benissimo ok allora iniziamo facendo il cerchio magico all'interno del cerchio magico dobbiamo andare a fare tre maglie alte e tre catenelle ripetute tre volte allora la prima maglia alta la sostituiamo con tre ca due catenelle va bene anche se io sinceramente la prima maglia alta le due catenelle non le lavoro quindi io faccio comunque due catenelle ma poi faccio comunque tre maglie alte va bene perché io poi mi aggancio qui quindi una due tre maglie alte 3 catenelle e ripeto per le altre tre volte quindi tre maglie alte 1 2 3 catenelle di nuovo 3 maglie alte lavoriamo insieme tutta la piastrella è bello di nuovo 3 catenelle di nuovo 3 catenelle le ultime 3 maglie alte 1 2 e 3 le ultime 3 catenelle e mi aggancio come vi ho detto alla prima maglia alta utile qua col punto bassissimo allora queste mattonelle a seconda del del che di che cosa ci dovete fare io allora facciamo conto che questa è una mattonella verone per delle borse quindi non c'è bisogno di tagliare tutte le volte il filo perché perché l'interno della catenella verrà della ma della mattonella verrà comunque foderato e tutto quanto quindi vi consiglio di non tagliare il filo e di passarlo attraverso vedete allargate l'anello passate il gomitolo attraverso l'anello e tirate il filo questo filo vi servirà poi quindi inutile che tagliate ricominciate tagliate ricominciate ok sul retro sicuramente ci saranno questi fili lunghi che sono diciamo quelli che poi vedete da qua il bianco riprende qua però tanto la mattonella va foderata e quindi inutile che tutti i giri come state lì ampi cave coago e figo io perlomeno quando devo fare una borsa faccio così voi fate quello che volete se volete tagliare il filo tutti i giri lo tagliate e ricominciate da capo benissimo finito il primo giro praticamente ho lavorato da sola mo lo riguasto e lo rifacciamo e viate pazienza ecco allora dicevo finito il primo giro attacchiamo il nuovo colore quindi prendiamo il filo e nel mio caso blu faccio il cappettino di sicurezza e mi inserisco in uno degli angoli ok allora inizio l'angolo è composto da tre maglie alte due catenelle tre maglie alte quindi quindi io mi inserisco qui faccio la maglia bassa e una catenella per fare la maglia iniziale che non va che non conto io come vi ho già detto prima e poi preso il proseguo a fare le tre maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle e nello stesso angolo altre tre maglie alte 3 maglie alte 1 2 e 3 al centro delle tre maglie alte che ci abbiamo sottostanti quindi nella seconda vado a fare un punto basso e ripeto questa operazione per tutti e quattro gli angoli quindi mi rituffo nell'angolo e faccio di nuovo tre maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte riporto dietro il giallo così lo blocco un po faccio salto nella maglia centrale delle tre e faccio la maglie bassa ripeto questi due angoli per le altre due volte quindi tre maglie alte 2 catenelle mano mano che lavorate disincagliate i fili perché sennò dopo vi viene tutto un agglomerato e faccio 1 2 3 maglie alte non mi va a dire come c'è tutto da capo abbiate pazienza salto la prima maglia alta nella seconda faccio una maglia bassa e finisco l'ultimo angolo quindi 123 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte adesso dovremmo avere registrato benissimo ok mi tuffo nella maglia alta centrale faccio la maglia bassa e chiudo con la maglia bassissima nella prima maglia alta che ho fatto anche in questo caso allungo l'asola ci passo dentro il gomitolo fisso il cappietto e ricomincio con un altro colore ok e questo mettiamo di qua e qua allora adesso prendo un verde un bel verde brillante faccio sempre il cappietto di sicurezza e devo partire sempre dall'angolo allora questo giro questo gruppo è composto di allora intanto cominciamo facendo 4 catenelle che sostituiscono un punto alto e una catenella in questo caso tocca contarlo questo quindi faccio una maglia bassa due cade una catenella per fare il primo punto alto una maglia un punto una catenella di separazione e poi faccio una maglia alta dentro il l'angolo quindi ho fatto in questo modo una maglia alta e una catenella una maglia alta una catenella una maglia alta poi faccio due catenelle è di nuovo una maglia alta una catenella è una maglia alta quindi ripeto una maglia alta una catenella una maglia alta 2 catene le una maglia alta una catenella e una maglia alta a questo punto dobbiamo andare a andare al nel punto basso centrale e lavorare una maglia alta una catenella e una maglia alta nel punto basso centrale va bene spero ritorniamo nell'angolo dove andiamo a fare una maglia alta una catenella e una maglia alta 2 catenelle e ripeto una maglia alta una catenella e una maglia alta nella maglia bassa centrale vado a fare un momento che ci vedo una maglia alta una catenella e una maglia alta arrivato nell'angolo una maglia alta una catenella una maglia alta 2 catenelle una maglia alta una catenella una maglia alta punto centrale punto basso centrale una maglia alta un momento è una maglia alta una catenella e una maglia alta facciamo l'ultimo angolo scusate ripeto questo passaggio perché sono avvenute tutte male se maglie così il filo preso male il filo pure questa la rifaccio scusate quindi una maglia alta poi nella maglia alta bassa centrale una maglia alta una catenella e una maglia alta facciamo l'ultimo angolo sempre composto da una maglia alta una catenella una maglia alta 2 catenelle 1 catenella 2 catenelle 1 catenella 1 maglia alta ok nel punto basso centrale una maglia alta una catenella 1 maglia alta a questo punto mi vado a chiudere qui nella nella catenella nella seconda catenella alla cui ci abbiamo una maglia alta una catenella e questa è la fine della maglia alta e quindi mi vado a chiudere qua con la maglia bassissima va bene e questo è quello che deve uscire fuori speriamo quindi anche in questo caso blocco il filo con questo nuovo dico più è vado a prendere un altro colore arancione rifaccio il cappietto mi metto in un angolo in un angolo qua così e devo andare a fare 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte quindi faccio sempre il solito ragionamento punto basso e catenella per così per alzare il lavoro e poi vado a fare le 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle e 3 maglie alte 1 2 e 3 adesso nell'archetto delle due maglie alte sottostanti devo andare a fare 3 maglie alte senza catenelle di separazione quindi di nuovo 3 maglie alte qua dentro nella nella v delle delle maglie alte insomma 1 2 e 3 ok e questo è come fino al momento si presenta il lavoro benissimo ok adesso carichiamo il filo sull'uncinetto ed andiamo a lavorare col punto alto preso in avanti nella v verde che ci abbiamo sotto quindi carichiamo il filo sull'uncinetto accavalliamo la maglia in questo modo e facciamo un punto alto 3 catenelle 123 e di nuovo nel punto alto successivo facciamo la stessa cosa quindi carichiamo il filo passiamo da sotto a sopra così e facciamo nuovamente un'altra maglia alta ok poi saltiamo nel punto v successivo quello delle due maglie alte andiamo a fare tre maglie alte all'interno 1 2 e 3 a questo punto dobbiamo ripetere tutto questo lavoro per tutto il giro quindi ci troviamo di nuovo nell'angolo andiamo a fare 3 maglie alte 2 cadenelle 3 maglie alte nel punto v andiamo a fare 3 maglie alte poi carichiamo il filo sull'uncinetto andiamo a fare i punti alti presi in avanti in questo punto successivo quindi così si entra si fa la maglia alta 3 cadenelle 123 e si fa di nuovo la stessa cosa sulla successiva va bene finisco questo giro poi altri due giri gli altri due angoli li facciamo da soli quindi 3 maglie alte qua 123 siamo di nuovo nell'angolo dove andiamo a fare 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle e 3 maglie alte 1 2 e 3 va bene questo è quanto riguarda questo anche adesso finiamo questi due ora non vi dimenticate di fare i tre punti alti nell'ultimo punto v prima dell'angolo perché io nella prima mattonella me li sono dimenticati non perché voi siate stupide come me però potrebbe essere una dimenticanza credetemi allora finito l'arancione come al solito blocchiamo il gomitolo così e mettiamo da parte bene vabbè nudino e qui ecco dove siamo arrivati fino adesso ok fino a qua ora cambiamo filato andiamo prendiamo un bianco tanto per interrompere questa sequenza abbastanza scioccante partiamo dalla da un angolo quindi sempre cappietto sempre cappietto nell'angolo io parto sempre nell'angolo successivo dove finisce il filo un'abitudine nell'angolo vado a fare quattro maglie alte ok quindi scusate eccomi qua quattro maglie alte quindi sempre la prima maglia fantasma per alzare il lavoro e poi faccio quattro maglie alte 1 2 3 e 4 poi devo fare un'altra maglia alta nella prima maglia alta del gruppetto da tre sotto quindi qua a questo punto devo fare cinque mezze maglie altre 1 2 3 4 e 5 mezze maglie 1 2 3 4 e 5 fatto questo dobbiamo andare a lavorare un punto nocciolina nell'archetto questo qua quindi carichiamo il filo sull'uncinetto e facciamo quattro maglie alte singole 1 2 3 e 4 lasciamo la solina in sospeso entriamo nel nella nell'occhiello del primo punto alto riprendiamo il filo e chiudiamo il lavoro ok fatto il punto nocciolina blocchiamo il lavoro e andiamo a ripetere questa sequenza quindi cinque due mezze maglie alte partendo dall'ultima qui 1 2 3 4 e 5 una maglia alta nella maglia alta prima dell'angolo e 4 maglie alte nell'angolo centrale 1 2 2 3 e 4 facciamo l'altro a un altro angolo insieme quindi abbiamo detto una maglia alta nella prima maglia alta 5 mezze maglie alte 1 2 3 4 e 5 punto nocciolina nella nell'archetto questo quindi quattro maglie alte 1 2 3 e 4 prendo entro l'uncinetto nella prima maglia lavorata riacchiappola ne qui l'anello e chiudo con una maglia di sicurezza poi ricomincio facendo 5 mezze maglie alte 1 2 3 4 e 5 una maglia alta prima dell'angolo e 4 maglie alte nell'angolo ok quindi andiamo poi a finire questi altri due lati già così potrebbe essere una mattonella usabile adesso mi vado a riprendere il filo giallo vedete questo qua all'inizio allora dobbiamo fare dobbiamo lavorare nelle quattro maglie alte dell'angolo facendo le mezze maglie alte prese da dietro che vuol dire che noi carichiamo sul filo l'uncinetto in questo modo cioè il filo sull'uncinetto ci inseriamo nella prima maglia alta del di uno degli angoli da davanti a dietro tiriamo fuori il filo ci abbiamo due cappietti e chiudiamo e abbiamo fatto una prima mezza maglia alta rilievo presa da dietro complicato carico di nuovo il filo sull'uncinetto mi inserisco nella seconda maglia e vado a chiudere sono due di nuovo e sono tre di nuovo non tirate troppo il filo in questo frangente e abbiamo lavorato vedete le quattro maglie dell'angolo non vi sbagliate a prendere maglie alte successive o precedenti perché ci sarebbe un errore sarebbe un errore continuiamo prendendo tutte le sei maglie che abbiamo sul lavoro quindi sia la maglia alta che le cinque mezze maglie alte facendo la stessa cosa quindi sempre da dietro a davanti facciamo 6 mezze maglie alte quindi una una due tre quattro registrati cinque e sei allora attenzione a questo passaggio carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia alta cavallata su questa arancione quindi la quella sotto il la riga del bianco in questo modo un punto alto doppio chiedo scusa quindi perché un punto alto non ce la facciamo tiriamo carichiamo il filo due volte entriamo e facciamo il punto alto doppio 1 2 e 3 poi facciamo due catenelle e ci andiamo a fare due punti alti doppi chiusi insieme quindi carichiamo il filo sull'uncinetto giriamo il lavoro in questo archetto qua questo verde quindi due catenelle carichiamo due volte il filo sull'uncinetto e guarda attiriamo giù qua sta finestrella qua così pieghiamo proprio il lavoro e ci ritroviamo la l'archetto verde quindi andiamo a fare la prima maglia alta doppia non chiusa chiudiamo carichiamo due volte il filo e andiamo a fare la seconda maglia alta e chiudiamo tutte e tre gli anelli insieme di nuovo due catenelle e di nuovo la maglia altissima su questa qua accavallata ma dopo rifacciamo vi preoccupate ok 1 2 e 3 e questo è quello che dovrebbe sci fuori ora dobbiamo fare la stessa cosa quindi ci andiamo a fare le maglie dietro quindi dicevo dopo aver fatto il punto doppio qua preso a cavallo dell'arancione ci andiamo a rifare tutti i punti mezzi le mezze maglie alte prese da dietro quindi ricominciamo nel dalla prima qua in questo modo e facciamo 1 2 3 4 5 e 6 poi abbiamo le quattro maglie alte dell'angolo e andiamo a ripetere sempre quattro mezze maglie alte prese da dietro 1 2 3 e 4 di nuovo le 6 maglie le 6 maglie successive sempre mezze maglie alte prese da dietro 1 2 3 4 5 e 6 e rifacciamo questo qua che magari la prima volta che lo spiega lo spiegato è venuto un po magari pasticciato non lo so allora una maglia altissima cavallando questa maglia arancione qui sotto quindi ci dobbiamo portare dietro questo 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 motivo quindi due volte il filo sull'uncinetto a cavallo la maglia arancione e vado a fare una maglia altissima poi vado a fare due catenelle a questo punto mi devo agganciare all'archetto sottostante quindi non faccio altro che piegare il lavoro così e mi ritrovo proprio l'archetto in faccia qua eccolo qua quindi per carico due volte il filo sull'uncinetto e vado a fare la prima maglia altissima non chiusa quindi due volte sole passo di nuovo carico due volte il filo sull'uncinetto chiudo la seconda maglia due volte e mi ritrovo tre maglie sull'uncinetto e chiudo tutto insieme a questo punto rifaccio le due catenelle come ho fatto di qua e mi rifaccio la maglia altissima accavallando quell'arancione spero di averlo spiegato un po meglio nel secondo passaggio ecco qua ok quindi a questo punto ovviamente devo ripetere tutta quanta la sequenza delle maglie alte delle mezze maglie alte prese dietro e sono 6 4 e 6 quindi ricomincio 1 2 3 4 5 e 6 poi mi ritrovo le quattro maglie alte la prima ricordatevi se vi trovate in questo momento come me e la prima è quella finta quindi vado nella seconda 1 questo è l'angolo dove ho iniziato no 2 3 e 4 e poi vado a fare le 6 mezze maglie alte di qua 1 2 3 4 5 e 6 rifacciamo questo lavoro insieme due volte il filo sull'uncinetto a cavallo la maglia arancione faccio una maglia altissima poi faccio 2 catenelle piego il lavoro in questo modo e vado a lavorare nell'archetto verde nel mio caso verde due volte il filo sull'uncinetto faccio una maglia altissima non chiusa due volte il filo sull'uncinetto la seconda maglia altissima non chiusa chiudo tutto insieme il nuovo 2 catenelle e di nuovo mi aggancio con la maglia altissima nel nella nella maglia arancione qui 2 e 3 e ricomincio a fare le maglie prese da dietro usate questo giro preferisco finirlo insieme a voi perché è un giro che mi ha creato difficoltà anche a me e quindi quindi faccio le mie 6 maglie in piano che ha creato difficoltà anche a me non che mia crea vabbè allora le sei maglie in piano le quattro maglie alte dell'angolo 1 2 3 e 4 le sei maglie alte in piano 1 2 3 4 5 e 6 e 6 il motivo incriminato quindi due volte il filo sull'uncinetto a cavallo la maglia arancione faccio una maglia altissima faccio 2 catenelle a cavallo il filo due volte sull'uncinetto mi vado a prendere l'archetto verde sottostante e vado a fare una maglia altissima non chiusa ricarico due volte il filo sull'uncinetto vado a fare la seconda maglia altissima non chiusa chiudo tutto insieme di nuovo due catenelle e di nuovo la maglia altissima a cavallata avanti le ultime sei maglie in piano e finalmente sto giro l'abbiamo finito ok è durato venti minuti ma insomma ce la possiamo fare benissimo a questo punto chiudo con la maglia bassissima nella prima perché la prima è contata come maglia reale e come al solito blocco il gomitolo allora questo è il primo va la prima volta che ripetiamo un colore quindi come potete vedere vi ritrovate il filo che passa dal centro fino a qua però come ripeto questo è un metodo primo per non impazzire a tagliare e a inserire tutti i fili e molto più importante se bloccate male i fili a con l'andare del tempo le maglie si sfaldano se si aprono e così non succede perché tutto un continuo allora adesso dobbiamo iniziare il prossimo giro in questi due archetti che si sono formati sopra il punto nocciolina quindi andiamoci a cercare il punto più vicino dove io passo il secondo colore che è il blu quindi il punto più vicino è questo e io ricomincerò da qui ok quindi devo fare 3 maglie alte scusate 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte sull'altro archetto quindi faccio sempre il mio punto finto e vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 allora adesso carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta cavallata a questa qua sottostante ok poi dobbiamo andare a saltare due punti di base quindi 1 e 2 e dobbiamo andare a fare 4 maglie basse vediamo contramo bene 3 e 4 ecco appunto questa dobbiamo saltare questa e questa che si nasconde qua sotto 1 e 2 e fare 4 maglie basse 1 2 3 e 4 nella maglia successiva andiamo a fare un aumento quindi 2 maglie basse in questo punto quindi abbiamo saltato 2 maglie abbiamo fatto 4 maglie basse un aumento poi dobbiamo andare a fare 3 maglie basse sulle 3 maglie basse successive 1 2 3 nella prossima maglia un aumento e poi 4 maglie basse 1 2 3 e 4 va bene ricominciamo la sequenza quindi carico quello sull'uncinetto maglia alta cavallata sotto questa gialla e le tre maglie alte negli archetti come abbiamo fatto all'inizio quindi nel primo archetto delle catenelle andiamo a fare 3 maglie alto 1 2 e 3 una catenella e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 maglie alta cavallata sotto quella gialla saltiamo nuovamente i due punti bassi successivi e andiamo a fare 4 punti bassi 1 2 3 4 un aumento 3 punti bassi 1 2 3 un aumento e 4 punti bassi 1 2 e sacco sbagliato qua e aspettate un attimo forse qui ho sbagliato perché qui se nasconde l'animaccia sua il punto basso ecco 1 e 2 sbagliato 1 ricomincio 2 3 e 4 poi l'aumento ecco adesso va bene i tre punti bassi nell'angolo di nuovo l'aumento e di nuovo 4 punti bassi adesso sì 1 2 3 e 4 quindi adesso ricominciamo maglia alta cavallata su questa gialla 3 maglia alta nel primo archetto una catenella 3 maglie alte nel secondo archetto maglia alta maglia alta saltiamo 1 e 2 punti di base andiamo a fare quattro maglie basse 1 2 3 e 4 qui abbiamo il filo giallo poi un aumento qui dobbiamo prende questa maglia qua eccolo qua un aumento 3 maglie basse 1 2 3 di nuovo l'aumento di maglie basse 4 maglie basse 1 2 3 e 4 e facciamo un'altra volta l'operazione quindi maglia alta cavallata su quella sotto 3 maglia alta nel primo archetto una catenella 3 maglia alta nel secondo archetto 2 3 maglia alta cavallata su quella sotto saltare 1 e 2 punti 4 maglie basse 2 3 e 4 un aumento 3 maglie basse un aumento 4 maglie basse 1 2 3 4 e si chiude con la maglia bassissima nella prima maglia alta fatta del gruppetto da 3 ok blocchiamo il gomitolo ok adesso interrompo il video facciamo una seconda parte perché sennò il video mi viene troppo lungo quindi fine prima parte questo è un video accettazione ecco ok 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 Grazie.